Vi ricordo sempre per chi non avesse visto l'episodio 3 che la visuale che state vedendo non è quella mia o di Xenic ma è di Frax Perché purtroppo il nostro computer fa schifo e quindi lagga molto anche se appunto è Minecraft e non dovrebbe laggare più di tanto Comunque abbiamo scaricato l'Optifine come ci hanno consigliato in molti e da tipo l'episodio tot in poi migliorerà Cioè metteremo la nuova di cinema a mettere la nostra facecam E visto che ci sono colgo l'occasione per ricordarvi che per chi non avesse visto l'episodio 4 non è uscito sul nostro canale ma è uscito su quello di Frax Quindi andate sul canale di Frax a guardare l'episodio 4 e buona visione Buona vecchia travali, siamo tornati con un nuovo episodio e siamo... non mi ricordo più il numero Comunque guarda c'è un creeper qua e guardate cosa c'è là sopra Quinto episodio, guardate che roba Sono morto Guarda quanti sono Oh ma che cazzo Regà, regà per piacere, non famo cazzate, andiamo in miniera adesso Vai namo Ma io non voglio Aspettiamo che bruciano Ma c'è un creeper Qua vicino Eh appunto, vattene Ci dobbiamo andare perché te vieni il giorno Se ti avvicini là ma te è finita È finita, scendi Ma se c'è già cesso te è in miniera da Io sì Ok Ciao Ma che cazzo Ma che hai fatto? Non lo so C'è solo un problema Fra Dobbiamo trovare uno spazio aperto, come facciamo? No, non là, non là Dov'hai? Che facciamo? Tipo Lì c'ha bedrock Io direi di tipo Ti trapano un po' qua Ma dove sei andato? Io non riesco a salire Coglione Oh che cazzo fai? Ho ucciso Matteo Matteo ma te che stai venendo in miniera Dove sei fatto il piccone? Ovvio che no Ma sei un coglione Sei un piccone Sei un piccone coglione Vabbè e io direi di scendere da qua Lo sai? Fare un altro buco da quest'altra parte Vero? Arrivo eh Ma non è meglio se tipo da qua Andiamo verso destra Verso sinistra E andiamo dall'altra parte Dove abbiamo fatto l'altro buco Scusa che ti cambia Matteo non devi Matteo ma che stai a fare? Stai rompendo tutto il senso Guarda Che cosa fai? Che se gira con qua Faccia con qualche coglione Che idiota Soffreso Te ho soffreso Matteo che cazzo stai a fa? Eh sto a fare una cosa grossa Oh devi fare tipo scale No sopra non serve No sopra no Matteo No pure ai lati Faccio le scale Faccio le scale Ma no hai capito Io dovevo andare Matteo fermo porca Devi andare Guarda dove sono io Bisogna scavare le scale Verso dove sto guardando io Ok Eh Ma stai guardando in diagonale In diagonale? In diagonale bisogna fare scale Come fai? Non fai scale orizzontali genio? No hai fai verticali Perché hai fatto un buco di due qua? Matteo Oh mio Dio Ma sto facendo le scale verso Verso il cazzo Verso l'imperatore Guarda rimane così qua Sto dentro la cosa Sto 56 48 milioni Apri solo il tempo No fermate C'è il tizio nero che ti ruba la roba L'enderman Eh Cazzo Eh siamo proprio fottuti male adesso eh Guarda sta qua dentro l'enderman Sta qua Ma due Tre Quanti so No 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 Porco due Abbiamo fottuto Ammazzarlo Abbiamo fottuto tutto Abbiamo fottuto tutto Siamo fottuti Do sta E uno è morto Morto E uno l'altro Eccolo Regà la porta Chiudete la porta Chiudete la porta Porca puttana Ma l'altro enderman Fa come gli pare Cioè non è che È morto l'altro enderman Ma guarda Leva un botto di vita E niente Allora Io sarei venuto Per prendere le torce È tutto questo Io l'ho preso Ah ok Mazza che spettacolo De scalinata Che abbiamo fatto Comunque Prego prego Sembra tipo Ma prego prego Senti Vogliamo parlare Di come hai iniziato A scavare Sta zitto eh Io quello stavo Ma guarda Vedete che mi hai capito L'acqua sta qua Abbiamo i creeper Dentro l'isola Ma davvero Ma davvero No Ma fottuto Ma te Se non ti è state cazzo Queste cose Non ci si scherza Abbiamo finito Di giocare Praticamente Cioè ci esplodevamo Aveva mezza isola D'amorifà tutto Te immagini Ma 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 Che cazzo Dovemmo far qua adesso Eh dovremmo Dovremmo Risolvere quel pezzo là Amplia un po' l'isola Eh però Ci serve la terra Per amplia l'isola Per fare l'isola Ci serve la terra Ma perché qua c'è questo Pezzo di sabbia E due cose Cioè Non ti cazzà però Ho capito Senza senso Ma ancora ci stanno Tutti sti mostri qua Sì Ma perché Non bruciano Perché continuano A uscire da là Perché c'è Sta il tetto Fino a che Intogliamo il tetto Da là Allora aspetta Vado Mi sacrifico Ad affare questa cosa Cos'è di fatto Ti passa da sopra Eh no Devo passare da sotto Semmai Anche Vado va Vado sott'acqua Cos'è di fatto Riusci a fare Un blocco accanto Così poi Poi da lì sali sopra E se una volta Stai sopra hai fatto Aspetta Perché mi sa Che stanno pure là dietro Guarda questi intanto Che mi lanciano Le frecce da sott'acqua Fammi sbucano Un attimo più aria E vaffanculo Ritorno sotto Morite Ma tanto Basta che faccio Un buco dentro Cioè Eh ma da sopra Devi fare i bui Mortacci No no cazzo Mamma io sto Sott'acqua Non posso Non posso Rump Eh capito Guarda Sto a fare io Se non c'hai Sto cazzo De creeper Tanto mamma Hai tolti tutti te Ecco Fatto Fatto Ok E basta Vaffanculo Oh Morite male Luce De merda Del cazzo Oh cazzo Cos'è che Ma hai attaccavo te No Cos'è Ma perché sei nato là sopra Guarda basta che fai così Da sopra Hai fatto Ok ce l'hanno fatta Ma che cazzo E mo però mi spieghi perché Quelli lì fuori non bruciano Oh porca puttana Perché stanno dentro l'acqua Non bruciano se stanno dentro l'acqua È vero non bruciano se stanno dentro l'acqua Eh infatti guarda Appena salgono sopra muoiono Non è visto Eh Al fine Aspetta 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 Ho tanto preso Guarda che Guarda Mateus Che si sta ammazzando con i cactus No perché Aspetta aspetta calcola Perché devo prendere È una missione mezza suicida Ma devo sbrigarmi Porca puttana Cazzo 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 Perché se no rimane aperto di là Devo correre Non mi devono prendere gli arcieri Perché se no Fanno l'usciere Ok Ok ci sto Ok chiudi la porta Quando esce Chiudi la porta Chiusa Porta chiusa Porta chiusa No Ma sai che famo Se famo l'archi La massiamo con l'archi Mi sono buggato tutto Mi sono buggato No dai se no muoio Porca puttana Vabbè rientro da qua Sti cazzi Ah Oh ragno è entrato Oh ragno è entrato Oh che cazzo è sto coso Spaderai Ah c'ho l'occhio di ragno Senti Alpe che faccio Faccio gli archi Oh io ci ho messo Ecco la terra L'avevo messa qua Fai gli archi Bravo bambino Dopo ti stupro Qua ci ho messo Sono non mi ricordo Non mi ricordo come si faceva Eh io ho altri 55 di terra Quindi possiamo espanderci Un altro po' Direi di metterne Tanto due qua Perché non sai che c'è un buco Non mi ricordo come si facevano le frecce però Tu ti ricordi? No Sono l'arco ma non c'ho la freccia Bene Ah ragazzi Ce stanno solamente altri 8 di 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 terra E poi ho finito tutta la terra No ce stanno Ah no hai preso Ho finito Cioè fino a tu Ma tanto la terra stiamo a posto Cioè non serve più ormai Dici Sì Siamo pieni A parte non stiamo più a ripiantare Manco l'arberi Ah è vero cazzo E ci servono Ciamo un botto di legno Ciamo Eh vabbè tanto fai No veramente è quasi finito il legno Però vabbè Ripianto io Eh piantalo qua Guarda che sto fa proprio Ma questa cosa mi ha fastidio Che cosa? Sto poso un mezzo che stava qua Vabbè Ma con la sabbia se continui a picconarla Finisce da un po' Sì Eh fino a quando arrivi sopra Cioè fino a quando la levi tutta Eh ma di sabbia ce ne sta veramente tanta Troppa forse È tipo il generatore dei cobblestone La sabbia è finita Ma quindi io Cioè non ho capito Domani mattina Cioè quando viene il sole no Noi praticamente entriamo dentro la cosa E troviamo tutta la roba droppata In teoria sì Se riuscimmo a togliere mezzo sti merda Eh vabbè quelli là piano piano Cioè ci andiamo Fammo uno per volta Tanto non ci arrivano più Questi qua una volta che i levi Oh l'ho ammazzato Davvero? Con la freccia sì No io si calcola Sto a fare una tattica assurda Lui sai qual è la cosa? Si avvicina la porta Io la apro Mi torna spadata E poi raiuto Cioè stanno un botto di ossa Che se stanno a perdere Perché cascano dentro l'acqua Eh sì Ti ho calcolato Ho chiuso la porta E appena ho chiuso Arrivano Cazzo Sto a cascano di sotto Che coglione di merda Ma te raccogli la roba Tutto questo aspetta Perché Cioè in effetti Potremmo pure fare una roba del genere Tiro Tac Ecco Eh dobbiamo fare la botola Lo sai Ormeno apri non caschi Eh infatti Come si fa Hai fatto? No Come si fa? Devi mettere Era con i legnetti C'è presente la porta? Sì La devi fare in orizzontale Ah e non con i legnetti Proprio con il legno Con il legno sì Oh cazzo No ho fatto una cazzata Così non si può più salire Porca Dov'hai? Adesso Adesso Ma non mi vuoi venire a trovare No cazzo Ho fatto una stronzata Così non si riesce più a salire Cazzo Eh poi ve lo spiego Eh la ti lascia aperta infatti Quando entri eh No no È più complicato De questo Da Perché cazzo Sei venuto adesso qua? Ce l'hai la zappetta te? No Come no? Perché c'è un pezzo De scala però? Eh ecco ecco E devi Devi riuscire a rompere Quella cosa Quel coso là Piano piano Lo so che ci vuole un botto E poi devi subito Rimettereci la scala È fatto da? Sei rotto quel coso? Sì 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 Eh mettilo te allora Il porco Eh no Ah Ah sì 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 Posso salire Ok a posto Ma perché l'hai messo al contrario? Vabbè cazzo te frega Lascio così Basta che funziona Guarda No 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 In culo tutto Vabbè raga Sto episodio è finito Aspetta, pensai che ti è cascato qualcosa in acqua Ok, dicevi? Questo episodio è finito Ci becchiamo col sesto episodio sul cane di Frax Quindi ormai quelli pari sono sul cane di Frax Quelli dispari sono sul nostro Esatto E niente Io ci becchiamo al prossimo video E bella Bella Ciao